Kafka, indagini di un cane Come è mutata la mia vita, e come in fondo non è affatto mutata. Se penso al passato e mi richiamo alla memoria ai tempi in cui vivevo ancora in mezzo al genere canino, e partecipavo come cane fra i cani a tutto ciò che li assilla, vedo a guardar bene che fin dall'inizio qualcosa non era in regola, che c'era una piccola frattura, in mezzo alle più solenne manifestazioni popolari. Mi prendeva un leggero disagio, anzi talvolta persino in un circolo di amici, no, non talvolta, ma molto più spesso la sola visita di un altro cane a me caro. La sola visita sotto un angolo in qualche modo diverso mi rendeva impacciato, impaurito, perplesso, persino disperato. Cercavo, dirò così, di tranquillare me stesso. Gli amici ai quali lo confessavo mi venivano in aiuto. Ci furono poi periodi più quieti, periodi nei quali non mancavano certo le sorprese, ma erano accolte con animo più sereno, erano inserite più serenamente nella vita. Causavano forse malinconia e stanchezza, ma in complesso mi lasciavano esistere come cane. Un po' freddo magari, restio, timido, calcolatore, ma tutto sommato, cane vero. D'altro canto, senza quegli intervalli di sollievo, come avrei potuto raggiungere l'età che ho? Come avrei potuto conquistare la calma con la quale considero oggi gli sgomenti della mia giovinezza e togliero gli sgomenti della vecchiaia? Come sarei arrivato a trarre le conclusioni della mia indole? Infelice, confesso, o per esprimermi con maggior cautela, non felicissima, e vivere in quasi perfetto accordo con essa. Ritirato, solitario, detito soltanto alle mie piccole indagini infruttuose, ma per me indispensabili. Così vivo, senza però aver perduto di vista il mio popolo lontano. Spesso mi arrivano notizie, e anch'io ne do di quando in quando. Mi si tratta con rispetto, non si capisce il mio modo di vivere, ma non mi viene rimproverato, e persino i cuccioli che ogni tanto vedo passare in lontananza, generazione nuova della cui infanzia ho appena un oscuro ricordo, non mi negano il loro rispettoso saluto. Non bisogna, infatti, dimenticare che, nonostante le mie stranezze palesi, non sono affatto un cane degenere. Se ci penso, e ho tempo, voglia e capacità di farlo, la situazione nel mondo canino è veramente strana. Oltre a noi cani, esistono molte specie di creature, poveri esseri muti e meschini, che si limitano soltanto a certi gridi. Molti cani tra noi li studiano, hanno dato loro il nome, e cercano di aiutarli, di renderli più nobili, e via dicendo. A me, purché non tentino di disturbarmi, sono indifferenti. Li confondo, non li degno di uno sguardo. Una cosa, però, è troppo appariscente perché mi possa essere sfuggita. Quanto poco, cioè, a paragone di noi cani, siano solidali, come si passino vicino l'un l'altro muti ed estranei, con una certa ostilità, come soltanto il più volgare interesse li possa tenere uniti esteriormente, e come persino da questo interesse sorgano spesso odi e liti. Noi cani, invece, si può ben dire, che viviamo tutti in un sol mucchio, tutti, per quanto siamo diversi, a causa delle infinite e profonde differenze che ci sono venute formando con l'andar del tempo. Tutti in un mucchio. Ci sentiamo spinti l'un verso l'altro, e nulla può impedirci di soddisfare questa tendenza. Tutte le nostre leggi e istituzioni, le poche che ancora ricordo, e le innumerevoli che ho dimenticate, risalgono al desiderio della massima felicità che possiamo avere, al tepore della convivenza. Vediamo ora il contrapposto. Che io sappia, nessuna creatura vive così dispersa come noi cani, nessuno presenta tante e neanche elencabili differenze di classe, di specie, di occupazione. Noi, che vogliamo tenerci stretti e ci riusciamo sempre, nonostante tutto, in momenti di entusiasmo, proprio noi, viviamo lontani e separati gli uni dagli altri, in professioni singolari che spesso riescono incomprensibili, addirittura al cane che ci sta al fianco, seguendo prescrizioni che non sono quelle del mondo canino, anzi, vi sono piuttosto contrarie, come sono difficili queste cose che preferiamo non toccare. Io comprendo anche questo criterio, lo comprendo meglio del mio, cose però, dalle quali ho votato tutto me stesso. Perché non faccio come gli altri, non vivo concorde col mio popolo, non accetto in silenzio gli ostacoli alla concordia, non li trascuro come piccoli errori nella grande contabilità, e non rimango sempre attaccato ai legami felici, non a ciò che sempre irresistibilmente ci strappa dalla cerchia del popolo. Ricordo un fatto della mia giovinezza. Ero allora preso da una di quelle beate, inesplicabili agitazioni, che tutti, credo, hanno vissuto da piccoli. Ero ancora cucciolo. Tutto mi piaceva, tutto mi riguardava. Mi figuravo che grandi cose accadessero intorno a me, delle quali ero il condottiero, alle quali dovevo prestare la mia voce. Cosi che dovevano rimanere miseramente trascurate, se non correvo, non volteggiavo per esse. Fantasie, insomma, puerili, che con gli anni si dileguano. Allora però erano molto ostinate. Ne ero tutto dominato, e devo dire che qualcosa di straordinario accadde davvero, venendo a confermare le mie smodate aspettazioni. Se non era nulla di straordinario. In seguito ho visto fin troppe volte cose simili ancor più curiose. Ma allora mi fece un'impressione potente e indelebile, tale da determinare molte espressioni successive. Incontrai cioè una piccola brigata di cani, o meglio non li incontrai, ma essi mi vennero incontro. Allora ero corso a lungo nell'oscurità, col presentimento di grandi cose, presentimento che ingannava facilmente, perché lo avevo sempre. Ero corso a lungo nelle tenebre, per diritto e per traverso, guidato soltanto da un vago desiderio. E a un tratto mi fermai, con l'impressione di essere al punto giusto, alzai gli occhi. Era giorno chiaro, soltanto un po' nebbioso, con un grande ondare di odori confusi e inebrianti. Salutai il mattino con trepiti mugolii, quando ecco, come li avessi evocati, uscire non so da quali tenebre alla luce, sette cani, con un fracasso orrendo, quale non avevo mai udito. Se non avessi visto chiaramente che erano cani, e proprio loro portavano quel chiasso, pur non potendo capire come lo producessero, sarei scappato subito. Invece rimasi. Allora non sapevo quasi nulla della musicalità creativa conferita soltanto al genere canino. Fino allora era sempre sfuggita la mia capacità d'osservazione che si stava sviluppando lentamente, dato che la musica mi aveva avvolto fin da quando ero lattante, come elemento di vita per me ovvio e indispensabile, che nulla mi costringeva a scindere dal resto della mia vita, ma soltanto con allusioni, adatte alla mia mentalità infantile, si era cercato di farmela intendere. Tanto più quei sette grandi musicanti mi fecero un effetto sorprendente e addirittura schiacciante. Non parlavano, non cantavano, tacevano in complesso, quasi con ostinazione, eppure, come per magia, evocavano la musica dal vuoto. Tutto era musica, il modo di alzare e posare i piedi, certi movimenti del capo, il modo di correre e di star fermi, di aggrupparsi, le loro combinazioni quasi di danza, quando, per esempio, uno posava le zampe anteriori sulla schiena dell'altro e poi si allineavano in modo che il primo, stando ritto, reggeva il peso di tutti gli altri, o quando, strisciando col ventre quasi per terra, formavano figure intrezzate, e non sbagliavano mai, nemmeno l'ultimo, che era ancora un poco incerto. Trovava sempre il contatto con gli altri, tentennava talvolta nell'attaccare, per così dire, la melodia, eppure era incerto soltanto a paragone della grandiosa sicurezza degli altri, e se anche fosse stato ancora più incerto o incerto del tutto, non avrebbe sciupato niente, poiché gli altri, grandi maestri, tenevano inflessibilmente il ritmo. Però si vedevano appena, tutti si vedevano appena. Si erano fatti avanti, li avevo salutati dentro di me in quanto cani, ero molto stordito dallo strepito che li accompagnava, ma erano pur sempre cani, cani come me e te. Li osservavo per consuetudine, come cani che si incontrano per via, volevo avvicinarmi a loro, scambiare un saluto, ed erano vicinissimi, cani molto più vecchi, certamente di me, e di pelo diverso dal mio, lungo e lanoso, eppure non troppo lontani per grandezza e forma, anzi molto familiari. Ne conoscevo tanti, di specie uguale o simile, ma mentre ero così immerso in siffatte considerazioni, la musica ebbe a poco a poco il sopravvento, ti afferrava, per così dire, ti distraeva da quei cagnolini reali, e controvoglia, pur reagendo con tutte le forze, urlando come qualcuno mi facesse male, non dovevo occuparmi d'altro se non di quella musica, che arrivava da tutte le parti, dall'alto, dal basso, dappertutto, circondando l'ascoltatore, inondandolo, schiacciandolo, e squillando sopra il suo annullamento, talmente vicino da essere già lontano, come una fanfara appena percettibile. E poi mi lasciò libero, perché ero già troppo sfinito, troppo annichilito, troppo debole per poter ancora ascoltare. Venni lasciato libero, e vidi i sette cagnolini muovere in processione, fare i loro salti, e per quanto sembrassero inavvicinabili, volevo chiamarli per ottenere informazioni, chiedere che cosa stessero facendo. Ero cucciolo, e credevo lecito a interrogare sempre tutti. Ma appena stavo per farlo, appena sentivo il familiare e il canino legame con questi sette, la musica riprese, mi stordì, mi fece girare come una trottola. Quasi fossi anch'io uno dei musicanti, mentre ero soltanto la vittima. Mi sballottò di qua e di là, per quanto implorassi misericordia, e alla fine mi salvò dalla sua propria potenza, spingendomi contro un grofiglio di tronchi che sorgevano tutto intorno, senza che fino a quel momento me ne fossi accorto. E ora mi accolsero in una stretta, mi fecero abbassare la testa, e per quanto la musica tornasse ancora là fuori, mi permisero di prender fiato un istante. In verità, più che dall'arte dei sette cani, per me incomprensibili, ma anche senza alcuna possibilità di accostamenti, e fuori dalle mie capacità, mi meravigliai del loro coraggio di esporsi interamente e apertamente a ciò che producevano, e della loro forza nel sopportarlo con tranquillità, senza rompersi il filo della schiena. Osservando meglio dal mio rifugio, vidi veramente che operavano non tanto con calma, quanto con estrema tensione. Quelle gambe, mosse con tanta apparente sicurezza, tremavano ad ogni passo con continui guizzi di paura, l'uno guardava l'altro come impietrito dalla disperazione, e la loro lingua, tenuta ripetutamente in freno, tornava subito a spenzolare floscia dalle fauci. La loro agitazione non poteva derivare dal timore di non riuscire. Chi osava tanto e di tanto era capace, non poteva più aver paura. Paura di che, in fondo, chi li costringeva ad agire come agivano? A questo punto non potei più trattenermi, tanto più che ora mi sembravano incomprensibilmente bisognosi d'aiuto, sicché pur nel frastuono lanciai a gran voce le mie domande. Essi invece, inconcepibile, inconcepibile! Non risposero, si comportarono come se non ci fossi. Cani che a un appello canino non rispondono affatto. Un peccato contro i buoni costumi che in nessun caso si perdona, né ai cani più piccoli né ai più grandi. O forse non erano neanche cani. Ma come potevano non esserlo? Non divo forse, tendendo meglio l'orecchio, persino sommessi incitamenti coi quali si facevano animo a vicenda, richiamavano la loro attenzione su qualche difficoltà, invitavano a guardarsi dagli errori. Non vedevo forse l'ultimo cane, il più piccolo, al quale andavo la maggior parte degli incitamenti, sbirciare spesso verso di me, come avesse una gran voglia di rispondermi, ma si frenasse perché non era lecito. E perché non doveva esserlo, perché non doveva essere lecito questa volta ciò che le nostre leggi esigono in maniera assoluta. Dall'indignazione dimenticai quasi la musica, quei cani trasgredivano la legge, per quanto fossero maghi insigni, la legge era valida anche per loro, menché cucciolo lo capivo benissimo, e anche altre cose vedevo, avevano realmente motivo di tacere, premesso che tacessero per un senso di colpa. come si comportavano infatti. La furia di musica non l'avevo notato fino a quel momento. Avevano deposto ogni pudore, quei disgraziati, e facevano l'atto più ridicolo e nello stesso tempo più indecente. Camminavano ritti sulle zampe posteriori. Vergogna! Si spogliavano e ostentavano sfacciatamente le loro nudità. Se ne compiacevano, e quando per un istante obbedivano al sano istinto e abbassavano le zampe anteriori, rimanevano quasi allibiti, come fosse un fallo, come se la natura fosse sbagliata. Le sollevavano subito le gambe e pareva che con lo sguardo chiedessero perdono di aver interrotto per un momento il loro stato di peccato. Era il mondo a rovescio? Dove mi trovavo? Che cosa era successo? Qui, per amore della mia stessa esistenza, non potevo esitare. Mi liberai dall'abbraccio dei tronchi, feci un balzo in avanti per accostare quei cani. Io, piccolo scolaro, dovevo fare da maestro affinché si rendessero conto di ciò che stavano facendo. Dovevo trattenerli dall'ingolfarsi ancora nel peccato. Cani così vecchi, così vecchi, andavo ripetendo tra me. Ma appena fui libero e soltanto due o tre salti mi separavano da essi, il baccano si impadronì di me un'altra volta. nel mio fervore avrei forse anche resistito al frastuono che ormai conoscevo, se nella sua intensità, che era spaventevole, ma si sarebbe forse potuta combattere, un suono limpido, severo, sempre uguale, proveniente e mutato da gran distanza, forse la vera melodia in mezzo al fragore non avesse vibrato e non mi avesse fatto piegare le ginocchia. Ahimè, com'era seducente la musica di quei cani! non potei più farmi avanti, non avevo più voglia di istruirli, continuassero pure a divaricare le gambe, a commettere peccati e a indurre altri al peccato di assistere in silenzio. Era un cucciolo così piccolino, chi poteva pretendere da me cose tanto gravi. Mi fece ancora più piccolo, uggio l'hai e se i cani avessero chiesto il mio parere forse avrei dato loro ragione. D'altro canto la cosa non durò molto ed essi scomparvero con tutto lo strepito e con tutta la luce nelle tenebre dalle quali erano venuti. Come dicevo, questo avvenimento non aveva niente di straordinario. Nel corso di una lunga vita si incontrano parecchie cose che tolte dall'insieme e considerate con occhi infantili sono ben più stupefacenti. Oltre a ciò si può farne come si dice un discorso analitico e allora risulta che là erano convenuti sette musicanti per far della musica nel silenzio mattutino che un cucciolo si era smarrito in quella regione ascoltatore molesto che quelli cercavano di cacciar via purtroppo in vano con musiche particolarmente paurose o sublimi. Questo li molestava con domande e siccome erano già abbastanza seccati dalla sola presenza dell'estraneo dovevano forse accettare anche questa molestia e aumentarla con risposte e se anche la legge ordina che si risponda a chiunque un cucciolo così minuscolo venuto da chissà dove sarebbe forse qualcuno di cui si debba tener conto forse anche non lo capivano avrà abbaiato le sue domande in modo incomprensibile o forse invece lo capirono bene e risposero con abnegazione ma lui piccino non avvetto alla musica non seppe distinguere tra questa e le risposte e in quanto alle gambe posteriori può darsi davvero che camminassero così solo eccezionalmente è un peccato d'accordo ma erano soli sette amici tre amici in un ritrovo familiare per così dire tra le loro quattro pareti in certo qual modo soli soletti perché gli amici non sono il pubblico e dove non c'è pubblico un cagnolino randaggio spinto dalla curiosità non fa ancora pubblico in questo caso dunque non è forse come nulla fosse accaduto non è proprio così ma quasi i genitori dovrebbero insegnare ai piccoli ad andare un po' meno in giro a stare zitti e a rispettare la vecchiaia arrivati a questo punto la questione è rimossa è anche vero che ciò che è sbrigato per i grandi non lo è ancora per i piccoli io corrivo di qua e di là raccontavo e interrogavo lanciavo accusa e indagavo volevo trascinare tutti sul luogo del fatto mostrare a tutti dove ero stato io e dove i sette cani dove e come avevano danzato e suonato e se qualcuno fosse venuto con me invece di cazzarmi via e deridermi avrei magari sacrificato la mia innocenza e avrei cercato di sollevarmi sulle gambe posteriori pur di chiarire esattamente ogni cosa vero è che a un piccino si rimprovera tutto ma si finisce anche col perdonare tutto ora io ho conservato la natura puerile anche diventando un cane vecchio come allora non smettevo di commentare ad alta voce quel fatto oggi mi sembra molto meno importante di scenderlo nelle sue parti di confrontarlo col comportamento dei presenti senza alcun riguardo per la società nella quale mi trovavo tutto intento a considerare la cosa che anche per me era molesta come per tutti gli altri che io però ecco la differenza volevo risolvere con le mie indagini fino in fondo appunto per poter contemplare ancora liberamente la vita comune felice tranquilla della giornata esattamente come allora sia pure con mezzi meno puerili ma la differenza non è grandissima come allora non smettevo di commentare ad alta voce quel fatto oggi mi sembra molto meno importante di scenderlo nelle sue parti di confrontarlo col comportamento dei presenti senza alcun riguardo per la società nella quale mi trovavo tutto intento a considerare la cosa che anche per me era molesta come per tutti gli altri che io però ecco la differenza volevo risolvere con le mie indagini fino in fondo appunto per poter contemplare ancora liberamente la vita comune felice tranquilla della giornata esattamente come allora sia pure con mezzi meno puerili ma la differenza non è grandissima ho lavorato in seguito e continuo ancora quel concerto però segnò l'inizio non me ne lamento qui agisce la mia natura congenita che certamente se non ci fosse stato quel concerto avrebbe cercato un'altra occasione di sfogo che sia avvenuto così presto mi dispiacco in seguito perché così ho perduto gran parte della mia infanzia la vita beata del cane giovane che qualcuno riesce a prolungare negli anni per me è durata solamente pochi mesi pazienza ci sono cose più importanti dell'infanzia può darsi che nella vecchiaia mi arrida frutto di una vita dura più felicità giovanile di quanto un autentico giovane non avrebbe la forza di sopportare forza che io invece avrò in quel tempo incominciai le mie indagini intorno alle cose più semplici il materiale non mi mancava purtroppo ciò che mi fa disperare nelle ore tristi è proprio l'abbondanza cominciai col ricercare di che cosa si nutrono i cani questo non è se vogliamo una questione semplice c'è fatica fin dai tempi primordiali è il principale oggetto delle nostre riflessioni infinite sono le osservazioni le prove le opinioni in questo campo se ne è fatta una scienza che nella sua enorme ampiezza sorpassa non solo l'intelligenza del singolo ma anche quella di tutti i dotti messi insieme e non può essere sostenuta da nessuno tranne che dalla totalità dei cani e persino da questa soltanto tra sospiri e non proprio per intero sicché continuamente qualcosa si sgretola dal vecchio nucleo che possediamo da gran tempo e deve essere faticosamente completata senza dire delle difficoltà e dei quasi inattuabili presupposti dei miei studi non mi si venga a obiettare tutto ciò lo so bene come qualunque altro cane medio non ho alcuna voglia di mischiarmi nella vera scienza ho per essa tutto il rispetto che le si deve ma per aumentarla mi mancano le cognizioni la siguità la calma e non per ultimo specie da alcuni anni anche l'appetito mando giù in fretta il boccone che trovo e secondo me non è degno di essere preceduto dalla benché minima e ordinata meditazione agricola a me basta il compendio di ogni scienza la regoluccia con la quale le mamme staccano dal seno i piccoli e rimandano nel mondo bagna tutto più che puoi non vi è forse contenuto quasi tutto che cosa vi possono aggiungere di essenziale e decisivo gli studi iniziati dai nostri progenitori particolari particolari e quanto poco sicuri per giunta questa regola invece rimarrà finché ci saranno cani essa riguarda il nostro alimento principale certo abbiamo anche altri ripieghi ma in caso di bisogno se le annate non sono troppo cattive potremmo vivere di questo principale alimento che troviamo sopra la terra la quale poi ha bisogno della nostra acqua si nutre di essa e soltanto a questo prezzo ci dà il nostro cibo la cui produzione non bisogna dimenticarlo può anche essere affrettata con determinate formule con canti e gesti e questo è tutto secondo me qui non c'è più niente di fondamentale da dire sull'argomento a questo proposito sono anche d'accordo con la maggioranza dei cani e ripudio nettamente tutte le opinioni eretiche in verità non cerco posizioni particolari non voglio avere sempre ragione sono felice quando posso essere d'accordo coi compagni come avviene in questo caso le mie imprese però si orientano in un'altra direzione l'evidenza mi insegna che la terra quando si è annaffiata e lavorata secondo le norme della scienza dà il nutrimento e precisamente nella quantità nella qualità nella maniera nei luoghi e nelle stagioni volute anche dalle leggi formulate in tutto o in parte dalla scienza lo ammetto volentieri ma il quesito che pongo è questo dove prende la terra questo nutrimento quesito che di solito si afferma di non comprendere e al quale nel migliore dei casi si risponde se non hai da mangiare abbastanza ti daremo del nostro si noti questa risposta so che i cani non hanno il pregio di spartire i cibi una volta ottenuti la vita è difficile la terra restia la scienza ricca di scoperte ma fin troppo povera di risultati pratici chi ha da mangiare se lo tiene non è egoismo bensì il contrario è norma canina è un'anime deliberazione di popolo derivata dal superamento dell'egoismo perché i possidenti sono sempre in minoranza perciò quella risposta se non hai da mangiare abbastanza ti daremo del nostro è un modo di dire comune una frase scherzosa una burletta non l'ho dimenticato ma tanto più significativo fu per me il fatto che quando vagabondavo per il mondo ponendo i miei quesiti non mi si trattava con scherno non mi davano da mangiare è vero dove avrebbero potuto prenderlo e quando si dava il caso che ne avessero nel furore della fame dimenticavano naturalmente ogni altro riguardo ma l'offerta era fatta sul serio e di quando in quando ricevevo davvero qualche piccolezza se ero abbastanza svelto da afferrarla ma perché ero trattato in modo così particolare perché ero protetto e preferito forse perché ero un cane magro debole malnutrito e incurante del cibo molti cani malnutriti ci sono in giro e a questi si toglie di bocca persino il cibo più misero quando si può molte volte non per avidità ma più spesso per principio io ero privilegiato non avrei saputo darne le singole prove ma ne avevo la precisa impressione facevano dunque piacere le mie domande si consideravano particolarmente intelligenti no non facevano piacere e tutte erano prese per stupide eppure non potevano essere che quelle domande a cattivarmi l'attenzione pareva si preferisse l'enormità di empirmi la bocca di cibo non lo facevano ma ne avevano l'intenzione piuttosto che tollerare i miei quesiti in questo caso però non si poteva cacciarmi via e vietarmi di proporli questo non era invece nelle intenzioni non si volevano ascoltare le mie domande ma appunto per queste domande non si voleva cacciarmi via per quanto fossi deriso trattato da bestiolina sciocca spinto di qua e di là quello fu veramente il periodo della mia massima autorità in seguito non si è mai ripetuto nulla di simile avevo ingresso libero dappertutto nulla mi era negato e sotto il pretesto di un trattamento brusco ricevevo in realtà le carezze tutto dunque grazie ai miei quesiti alla mia impazienza al mio desiderio di ricerche volevano forse ninnarmi stornarmi senza violenza quasi amorevolmente da una strada falsa la cui falsità non era però tanto superiore a ogni dubbio da permettere che si ricorresse alla violenza anche un certo rispetto e un certo timore impedivano l'uso della violenza già allora intuivo queste cose oggi lo so benissimo molto meglio di quanto non sappiano quelli che allora lo facevano è proprio vero con lusinghe mi si voleva distrarre dalla mia strada si ottenne invece il contrario la mia attenzione mi fece più vigile trovai perfino che ero io a lusingare gli altri e che in effetti le lusinghe erano fino a un certo punto coronate dal successo soltanto con l'aiuto dei cani incominciai a capire i miei stessi quesiti quando per esempio domandavo donde prende la terra questo nutrimento mi curavo io forse come poteva sembrare della terra mi davano forse da pensare le sue apprezzioni niente affatto ciò era come potei capire assai presto ben lontano da me per me contavano soltanto i cani e niente altro che cosa esiste infatti oltre ai cani a chi altri si può fare appello nel mondo ampio e deserto tutta la scienza la totalità dei quesiti e delle risposte è contenuta nei cani almeno si potesse rendere efficace portare alla luce del giorno questo sapere almeno non sapessero infinitamente più di quanto confessano persino a se stessi anche il cane più loquace è più chiuso di quanto non siano i soliti locali dove si conservano i cibi migliori si circuisce il prossimo si schiuma dal desiderio ci si frusta con la propria coda si domanda si prega si piange si morde e si raggiunge si raggiunge ciò che si raggiungerebbe senza alcuno sforzo l'amorevole ascolto i contatti amichevoli gli intimi abbracci e l'onore di essere fiutati il mio e il tuo latrato si confondono in uno tutto tende a questo scopo tutto è estasi oblio ritrovamento ma la cosa che si voleva raggiungere soprattutto la confessione del sapere continua ad essere negata a questa preghiera tacita o eloquente rispondono semmai quando la lusinga si è spinta all'estremo soltanto sguardi biechi espressioni ottuse occhi torvi e velati non è molto diverso da quando nella mia infanzia mi rivolgevo ai cani musicanti ed essi tacevano ora si potrebbe obiettare tutti i lagni degli altri cani del loro silenzio intorno ai massimi problemi affermi che sanno più di quanto non confessino più di quanto non vogliono ammettere nella vita e dici che questo silenzio nel quale tacciano naturalmente anche la causa e il mistero avvelena la vita che la rende insopportabile sicché dovresti o mutarla o lasciarla può anche darsi ma tu stesso sei un cane anche tu possedi un sapere canino dillo allora non soltanto sotto forma di domanda ma come risposta se lo dici chi ti potrà resistere il grande coro della caninità unirà le sue voci come non avesse aspettato altro allora avrai la verità la chiarezza la confessione fin dove vorrai il tetto di questa bassa vita della quale dici tanto male si aprirà e noi tutti saliremo verso la libertà sublime e se ciò non dovesse riuscire se dovessimo stare peggio di prima se la verità intera dovesse essere meno sopportabile della mezza se dovesse risultare che quali conservatori della vita i taciturni hanno ragione se la tenue speranza che ancora abbiamo dovesse tramutarsi in completa disperazione mette conto di tentare il discorso visto che non vuoi vivere come ti sarebbe lecito vivere ordunque perché rinfaccia agli altri di essere taciturni e tu stesso taci facile rispondere perché sono cane essenzialmente chiuso e taciturno proprio come gli altri renitente alle mie domande ostinato per paura a rigore interrogo forse almeno da quando sono adulto i cani affinché rispondano nutro forse speranze così stolte vedo forse le basi della nostra vita ne intuisco la profondità contemplo i lavoratori intenti a costruire a compiere la loro opera tenebrosa e aspetto ancora che in seguito alle mie domande tutto ciò sia portato a termine distrutto abbandonato no non lo aspetto più davvero li capisco io sono sangue del loro sangue del loro povero sangue sempre rinnovellato sempre bramoso ma non abbiamo in comune soltanto il sangue bensì anche il sapere e non solo il sapere ma anche le chiavi di esso io non lo possiedo senza gli altri non posso averlo senza il loro aiuto ossi di ferro contenenti il più nobile midollo si possono stritolare soltanto col morso comune di tutti i denti di tutti i cani questa naturalmente è una metafora un'esagerazione se tutti i denti fossero pronti non dovrebbero più mordere l'osso si aprirebbe da sé e il midollo sarebbe alla portata del più debole cagnolino rimanendo nella metafora le mie intenzioni i miei quesiti le mie indagini mirano devo dire a qualcosa di mostruoso voglio adunare per forza questa assemblea di tutti i cani voglio che l'osso si apra sotto la pressione delle loro volontà voglio poi rimandarli alla vita che hanno ancora voglio poi rimandarli alla vita che hanno cara e poi solo assolutamente solo succhiare il midollo sembra enorme sembra quasi che non mi voglia nutrire soltanto del midollo d'un osso ma di quello di tutta la caninità eppure è soltanto una metafora il midollo del quale sto parlando non è un cibo è il contrario è veleno con le mie domande non faccio che incitare me stesso stimolarmi col silenzio che qui intorno è il solo a rispondermi fin quando sopporterai che i cani come tu stesso ti rendi conto sempre meglio attraverso le tue indagini taccano e abbiano a tacere per sempre fin quando lo sopporterai questo è al di sopra di tutte le singole domande il mio vero quesito vitale esso è rivolto soltanto a me e non molesta nessun altro purtroppo a questo posso rispondere più facilmente che alle domande singole per quanto possa prevedere sopporterò sino alla mia fine naturale poiché alle domande irrequiete si contrappone sempre più la quiete della vecchiaia probabilmente morirò in silenzio circondato dal silenzio quasi in pace e me l'aspetto con l'assegnazione noi cani abbiamo ricevuto quasi per beffa un cuore mirabilmente forte e polmoni che non si consumano prematuramente noi resistiamo a tutte le domande persino alle nostre da quei baluardi del silenzio che siamo negli ultimi tempi ripenso sempre più alla mia vita cerco l'errore decisivo colpa di tutto che potrei aver commesso e non riesco a trovarlo eppure devo averlo commesso perché se così non fosse nonostante ciò con onesta fatica di una lunga vita non avessi raggiunto ciò che volevo avrei la prova che ciò che volevo era impossibile e ne seguirebbe il crollo di tutte le speranze considera l'opera della tua vita anzitutto le indagini intorno al quesito dove prende la terra l'alimento per noi la giovane cane avidamente desideroso di vivere come naturale rinunciai a tutti i godimenti zirai a largo da ogni spasso mi pregi la testa fra le gambe per evitare ogni allettamento e mi accinsi al lavoro non era un lavoro erudito né per la dottrina né per il metodo né per le intenzioni difetti certamente ma non possono essere stati decisivi ho imparato poco perché mi staccai da mia madre molto per tempo imparai presto ad essere indipendente feci una vita libera e l'indipendenza precoce è nemica dello studio sistematico ma ho visto e udito molte cose ho parlato con molti cani delle più svariate specie e professioni e credo di non aver afferrato male le singole osservazioni e ciò ha sostituito fino a un certo punto l'erudizione e l'indipendenza se anche dannosa allo studio per le proprie indagini è un sicuro vantaggio nel caso mio era tanto più necessaria in quanto non potevo seguire il vero metodo della scienza fruttare cioè il lavoro dei predecessori e mettermi in rapporto con gli studiosi contemporanei dovevo fare assegnamento soltanto su me stesso incominciare dai primissimi inizi con la coscienza allietante per la gioventù ma molto deprimente per la vecchiaia che l'eventuale punto fermo che metterò sarà anche il definitivo ero davvero così solo nei miei studi dopo di allora sì e no non è possibile che non ci fossero o non ci siano sempre e anche oggi singoli cani nelle mie condizioni non posso essere ridotto così male non sono neanche un palmo fuori della natura canina ogni cane ha come me la smania di far domande e io come ogni cane ho la smania di tacere ognuno ha il desiderio di far domande altrimenti avrei forse potuto raggiungere quei miei quesiti sia pur lievi commozioni che mi fu sovente concesso di vedere con animazione ammirazione esagerata se vogliamo e non avrei forse dovuto raggiungere molto di più se le mie condizioni fossero state diverse la mia smania di tacere non ha bisogno purtroppo di prove particolari fondamentalmente dunque non sono diverso da qualunque altro cane sicché nonostante tutte le differenze di opinioni e tutte le antipatie ognuno mi riconoscerà e io non agirò diversamente con gli altri cani soltanto la combinazione degli elementi è diversa differenza molto notevole per l'individuo insignificante per il popolo possibile che la combinazione di questi elementi sempre tangibili nel passato e nel presente non sia riuscita mai simile alla mia e quando si voglia definire infelice la mia combinazione non sia stata anche più infelice sarebbe contrario ad ogni esperienza noi cani noi cani ci occupiamo delle più strane attività attività che non si crederebbero nemmeno se non ne avessimo le più fidate informazioni qui mi piace pensare all'esempio dei cani aerei quando ne senti parlare la prima volta mi misi a ridere e non mi lasciai convincere in nessun modo possibile che esistesse un cane di specie piccolissima non più grande della mia testa neanche in età avanzata e che questo cane deboluccio per natura artefatto a vederlo immaturo esageratamente lisciato incapace di fare un balzo come si deve che questo cane a quanto si diceva si spostasse per lo più in alto nell'aria e invece di fare un lavoro controllabile stesse fermo ecco darmi da vere cose simili significava credevo sfruttare troppo l'ingenuità di un cucciolo poco dopo però sentii che altri parlavano di un altro cane aereo si erano forse messi d'accordo per prendermi in giro in seguito vidi i cani musicanti e da quel momento tutto mi parve possibile nessun pregiudizio limitava la mia capacità di comprendere correvo dietro alle voci più assurde fin dove mi era possibile e le massime assurdità di questa vita assurda mi parevano più verosimili delle cose sensate e particolarmente utili ai miei studi così anche i cani aerei venne a sapere molte cose sul loro conto e pur non essendo riuscito fino ad oggi a vederne uno sono convinto da parecchio tempo della loro esistenza e nella mia visione del mondo occupano un posto importante come nella maggior parte dei casi anche qui naturalmente ciò che mi rende perplesso non è la loro arte è meraviglioso non si può negare che questi cani siano capaci di librarsi nell'aria il mio stupore si unisce a quello degli altri cani ma secondo me è molto più meravigliosa l'assurdità la silenziosa assurdità di queste esistenze in genere non è neanche motivata essi stanno sospesi in aria e tanto basta la vita prosegue ogni tanto si parla di arte e di artisti e tutto finisce qui ma perché gran mondo canino perché questi cani stanno sospesi che senso ha la loro attività perché non si può ottenere da loro una parola di spiegazione perché si liberano là in alto lasciano intristire le gambe orgoglio del cane stanno separati dalla terra nutrice non seminano eppure raccolgono anzi da quanto si sente dire sono mantenuti molto bene a specie della caninità mi lusingo di avere portato un po' di movimento in questo campo con le mie interrogazioni si comincia ad addurre ragioni ad annaspare una specie di motivazione anche se non si arriverà più in là di questo inizio ma è già qualcosa vi si scorge se non la verità a questo non si arriverà mai almeno un po' della profonda confusione della menzogna infatti tutti i fenomeni assurdi della nostra vita specie quelli più assurdi si possono motivare non del tutto ben inteso questa è la beffa diabolica ma quanto basta per salvarci da domande penose riprendiamo l'esempio dei cani aerei essi non sono superbi come si potrebbe credere hanno piuttosto particolare bisogno del prossimo e lo si capisce quando si cerca di mettersi al loro posto infatti anche se non lo possono fare apertamente che sarebbe come violare l'obbligo del silenzio devono pure in qualche modo cercare di farsi perdonare il loro tenore di vita o almeno di distrarne l'attenzione di farlo dimenticare e lo fanno mi hanno detto mediante una quasi insopportabile loquacità hanno sempre qualcosa da dire cioè le loro riflessioni filosofiche alle quali possono dedicarsi in permanenza visto che hanno rinunciato a qualsiasi fatica fisica o le osservazioni che fanno dal loro posto così elevato e quantunque come ovvio in una siffatta vita oziosa non si distinguono per capacità intellettuale e la loro filosofia sia senza alcun valore come le loro osservazioni e benché la scienza non possa farne quasi nessun uso e non debba ricorrere ad ausili così meschini tuttavia chi chiede che cosa vogliono mai questi cani aerei si sentirà rispondere che danno cospicui contributi alla scienza sarà giusto si obietta ma i loro contributi sono inutili e molesti allora ti rispondono alzando le spalle divagando indignandosi ridendo e se dopo un po' ripeti la domanda ti rispondono ancora che contribuiscono alla scienza e infine quando sei interrogato a tua volta e non stai attento dai anche tu la stessa risposta forse anche bene non essere troppo ostinati e adattarsi non già riconoscere i cani aerei ormai esistenti nel loro diritto di vivere che sarebbe cosa impossibile ma almeno attollerarli più di così non si deve pretendere sarebbe troppo eppure lo si pretende si pretende che siano tollerati sempre nuovi cani aerei che vengono su donde vengano non si sa con esattezza si moltiplicano per procreazione ne hanno ancora la forza pur non essendo più che belle pellizze che cosa dovrebbe moltiplicarsi in questo caso e se anche potesse darsi l'inverosimile quando dovrebbe avvenire si vedono sempre soli lassù nell'aria bastanti a se stessi e se qualche volta si degnano di correre lo fanno solo per qualche istante fanno qualche passo grazioso sempre rigorosamente soli immersi dicono in pensieri dai quali non riescono a staccarsi neanche con uno sforzo almeno a sentir loro ma se non si riproducono si può mai pensare che esistano cani i quali abbandonano volontariamente la vita su questa terra diventando spontaneamente cani aerei e per amore della comodità e di una certa abilità artistica scelgono la vita in sul salà sui guanciali no non è pensabile non può darsi né la procreazione né l'aggregazione volontaria la realtà però dimostra che ci sono pur sempre nuovi cani aerei se ne deduce che se anche nella nostra mente gli ostacoli sembrano insuperabili una specie canina esistente per quanto sia strana non si estingue per lo meno non si estingue facilmente non senza che ogni specie possa porre una efficace resistenza se ciò è valido per una specie così eccentrica assurda esteriormente stranissima inetta alla vita come quella dei cani aerei non lo si potrà assumere anche per la specie mia dirò che esteriormente non sono affatto strano tipo medio comunissimo che almeno in questa regione è molto frequente per nulla eccellente per nulla particolarmente spresevole anzi nella mia infanzia in un certo senso anche da grande quando non mi trascuravo e facevo molto moto era un cane assai carino specialmente ero lodato per la mia parte anteriore per le gambe snelle e il bel portamento del capo anche il mio pelame giallo bianco grigio arricciato soltanto alle punte dei peli era molto piacente tutte cose che non sono originali originale è soltanto la mia natura ma anche questa non lo devo mai dimenticare ha il suo fondamento nella comune natura canina ora se persino il cane aereo non rimane solo e ogni tanto se ne trova uno nel vasto mondo dei cani e anzi vi si incontrano sempre nuovi discendenti sorti dal nulla anch'io posso vivere con la fiducia di non essere perduto certo i compagni della mia specie devono avere un destino particolare la loro esistenza non mi soccorrerà mai tangibilmente già per il fatto che non li riconoscerò forse mai noi siamo quelli che il silenzio schiaccia che vorrebbero infrangerlo quasi per fame di aria mentre gli altri pare si trovino bene nel silenzio magari soltanto in apparenza come per esempio tra i cani musicanti che suonavano apparentemente tranquilli e in realtà erano molto agitati ma questa apparenza è forte si cerca di vincerla ed essa resiste ad ogni attacco ora come se la cavano ai miei compagni quali sono i loro tentativi di vivere nonostante tutto i casi sono diversi io mi ci sono provato con i miei quesiti finché ero giovane potrei aggregarmi a quelli che fanno molte domande tra questi avrei allora i miei compagni per qualche tempo ho tentato mio malgrado sì mio malgrado poiché mi stanno a cuore soprattutto quelli che devono rispondere quelli che mi intralciano continuamente con domande alle quali per lo più non so rispondere mi sono odiosi e poi chi non interroga volentieri quando è giovane e tra le numerose domande come faccio a trovare le giuste le domande suonano tutte uguali ciò che conta è l'intenzione la quale però è nascosta spesso anche a chi interroga in genere il domandare è una caratteristica dei cani tutti interrogano per diritto e per rovescio pare che così vogliano cancellare le tracce delle domande giuste no non ci sono mei affini tra i giovani che pongono quesiti e nemmeno tra i taciturni tra i vecchi ai quali io stesso appartengo ma dove mirano i quesiti io ho fatto fiasco con essi penso che i miei compagni siano molto più saggi di me e usino mezzi diversi ed eccellenti per sopportare questa vita mezzi che aggiungo io li aiutano forse alla meglio li tranquillizzano li addormentano trasformando la specie ma in complesso sono altrettanto inefficaci quanto i miei perché per quanto mi guardi in giro non vedo alcun risultato temo che da qualunque altra cosa riconoscerò i cani della mia specie più che dal buon risultato ma dove sono i miei compagni questa è la mia lamentela dove sono dappertutto e in nessun luogo forse lo è il mio vicino a tre salti da me ci chiamano spesso egli viene anche da me e io non vado da lui è forse della mia specie non lo so non vedo in lui nulla di simile ma potrebbe anche darsi può darsi ma nulla è più inverosimile quando sta lontano posso per gioco ricorrendo a tutta la mia fantasia scoprire in lui qualche tratto familiare sospetto ma quando me lo trovo davanti tutte le mie invenzioni fanno ridere c'è un cane vecchio ancora più piccolo di me che sono a malapena di statura media bruno dal pelo corto con la testa penzoloni dalla stanchezza dal passo strascicato che oltre a ciò in seguito a una malattia si tira dietro la gamba posteriore sinistra da molto tempo non ho rapporti così stretti con nessun altro sono liato di poterlo ancora sopportare passabilmente e quando parte gli grido dietro le cose più amichevoli non già per affetto ma perché sono in collera con me stesso lo seguo proprio infatti una grande ripugnanza vedendolo allontanarsi con quella gamba straciconi e col di dietro troppo basso al volta a volte mi sembra di beffare me stesso se dentro di me lo chiamo compagno e anche nelle nostre conversazioni manifesta alcun segno di appartenenza a una comunità è intelligente e per il nostro ambiente abbastanza colto da lui potrà imparare molto ma cerco forse intelligenza e cultura di solito parliamo di questioni locali e io avendo acquistato in questo riguardo una vista più acuta in seguito alla mia solitudine noto con stupore quanto spirito occorra anche in situazioni non troppo sfavorevoli a un cane comune per campare e proteggersi dai più grandi comuni pericoli la scienza fissa le norme ma non è punto facile intenderle neanche da lontano e nelle più grossolane linee principali e quando uno le ha comprese vengono le vere difficoltà di applicarle cioè nella situazione locale qui è difficile che uno possa venire in aiuto ogni ora si può dire pone nuovi compiti e ogni palmo di terra ha i suoi compiti particolari nessuno può affermare di essere sistemato durevolmente in qualche luogo di modo che la sua vita scorra per così dire da sé nemmeno io cheppure riduco le mie necessità di giorno in giorno e tutta questa infinita fatica che scopo ha senza dubbio di immergersi sempre più nel silenzio e di non esserne cavato mai e da nessuno si vanta spesso il progresso universale dei cani attraverso i tempi e con ciò si allude probabilmente al progresso della scienza certo la scienza progredisce non la si può fermare procede anzi con ritmo accelerato sempre più veloce ma che cosa vi è da elogiare sarebbe come esaltare qualcuno perché con gli anni diventa più vecchio e perciò si avvicina sempre più velocemente alla morte è un fatto naturale e brutto per giunta nel quale non trovo niente da elogiare non vedo che decadenza senza voler dire con ciò che le generazioni precedenti erano di natura migliore erano soltanto più giovani ecco il loro grande vantaggio la loro memoria non era ancora sovraccarica come la odierna era ancora facile indurli a parlare e se anche nessuno vi riuscì la possibilità era maggiore tant'è vero che questa maggiore possibilità è quella che tanto ci agita quando ascoltiamo quelle storie vecchie ma anche ingenue talvolta udiamo una piccola parola allusiva e vorremmo quasi balzare in piedi se non ci sentissimo addosso il peso dei secoli ecco qualunque obiezione abbia da fare contro il mio tempo le generazioni precedenti non erano migliori delle nuove anzi in un certo senso erano molto peggiori e più deboli anche allora si sa i miracoli non giravano liberamente per le strade di modo che chiunque potesse coglierli ma i cani non erano ancora non trovo altra espressione canini come oggi la compagine della caninità era ancora lenta la parola vera avrebbe potuto ancora intervenire determinare la costruzione mutarla secondo ogni desiderio volgerla al contrario e quella parola c'era era perlomeno vicina stava sulla punta della lingua tutti potevano apprenderla dove è andata a finire oggi si potrebbe scendere fin nelle budella e non la si troverebbe può darsi che la nostra generazione sia perduta ma è più innocente che quella di allora posso anche capire il tentennamento della mia generazione non è più neanche un indugio è l'obbligo di un sogno sognato mille notti or sono e mille volte dimenticato chi ci terrà il broncio proprio per il millesimo oblio ma credo di comprendere anche l'indugio dei nostri progenitori probabilmente noi non avremmo agito in modo diverso e quasi vorrei dire beati noi che non abbiamo dovuto addossarci la colpa e possiamo invece andare incontro alla morte in un mondo già ottenebrato da altri entrò un silenzio quasi innocente quando si sviarono i nostri avi non pensavano neanche che fosse uno smarrimento senza fine vedevano ancora diremo così il crocicchio era facile tornare indietro in qualunque momento e se esitarono a tornare indietro lo fecero soltanto perché vollero godere ancora per poco la vita canina che non era ancora una vita particolare e già sembrava a loro bella e inebriante quanto doveva esserlo in seguito almeno dopo breve tempo e così continuarono a sviarsi non sapevano e non lo possiamo immaginare se consideriamo l'andamento della storia che l'anima si muta prima della vita e quando la vita canina cominciò a far loro piacere dovevano già avere un'anima canina veramente antica e non erano più tanto vicini al punto di partenza come sembrava loro o come il loro occhio tripudiante in tutte le gioie canine voleva far credere oggi chi può parlare ancora di giovinezza essi erano essi erano i veri cani giovani ma la loro unica ambizione mirava purtroppo a diventare cani vecchi la qual cosa non poteva fallire come dimostrano tutte le generazioni seguenti e meglio di tutte l'ultima la nostra di tutte queste cose non parlo naturalmente col mio vicino ma ci devo pensare spesso quando sto accoccolato di fronte a lui tipico cane vecchio o affondo il muso nel suo vello che già ha un sentore di pelliccia scuoiata parlare di quelle cose con lui sarebbe assurdo come con qualunque altro so come si svolgerebbe il dialogo egli farebbe ogni tanto qualche piccola obiezione infine approverebbe l'approvazione è l'arma migliore e la questione sarebbe sepolta perché dunque scomodarla dal sepolcro eppure nonostante ciò c'è tutta una concordanza profonda col mio vicino la quale sorpassa le parole non posso cessare di affermarlo benché non ne abbia alcuna prova e forse sia soltanto vittima di una semplice illusione perché da parecchio egli è l'unico col quale io tratto e perciò devo riferirmi a lui saresti forse un mio compagno a modo tuo e ti vergogni perché tutto ti è andato male guarda a me è accaduto lo stesso quando sono solo ne piango vieni in due è più dolce piangere così penso talvolta mentre lo guardo fisso allora egli non abbassa gli occhi ma nemmeno vi si legge alcunché mi guarda imbambolato e stupito perché taccio e interrompo il dialogo ma proprio quello sguardo è forse il suo modo di domandare e io lo deludo come lui delude me nella mia giovinezza se a quel tempo altre questioni non avessero avuto maggiore importanza per me e io non fossi abbondantemente bastato a me stesso forse lo avrei interrogato ad alta voce ne avrei ricevuto una fioca approvazione dunque meno di oggi col suo silenzio ma non tacciano tutti allo stesso modo che cosa mi impedisce di credere che tutti siano miei compagni che solo di quando in quando abbia avuto un compagno di studi il quale coi suoi risultati insignificanti è tramontato e dimenticato e al quale non posso più giungere in alcun modo attraverso le tenebre dei tempi o l'urgere del presente che piuttosto abbia sempre avuto compagni i quali si affannano tutti a modo loro falliscono tutti a modo loro blaterano tutti con astuzia o tacciano a modo loro come vuole l'indagine senza speranza in tal caso non avrei neanche dovuto isolarmi avrei potuto tranquillamente rimanere in mezzo agli altri non avrei dovuto spingermi come un cucciolo maleducato attraverso le file degli altri i quali vogliono uscire al pari di me e nei quali mi sorprende soltanto l'intelligenza che spiega loro come nessuno riesca ad evadere e ogni insistenza sia stolta se fatti i pensieri sono dovuti è vero all'azione del mio vicino il quale mi confonde e mi rende malinconico e per parte sua è abbastanza giulivo per lo meno quando è nel suo ambiente o sento che grida e canta fino a darmi fastidio sarebbe opportuno rinunciare anche a quest'ultima relazione non assecondare segni vaghi che ogni relazione canina per quanto si creda di essere corazzati provoca inevitabilmente e impiegare il poco tempo che mi rimane esclusivamente nelle mie indagini la prossima volta e quando arriva mi rintanerò e fingerò di dormire e così farò fin tanto che non verrà più anche nelle mie indagini si è insinuato un certo disordine lascio correre mi stanco tratto ormai macchinalmente laddove prima correvo con entusiasmo ripenso al tempo in cui presi a considerare il quesito dove prende la terra il nostro nutrimento vero è che allora vivevo in mezzo al popolo mi pigiavo dove la folla era più fitta volevo che tutti fossero testimoni dei miei lavori anzi quella testimonianza contava per me più del lavoro stesso e siccome mi aspettavo ancora un successo universale me ne veniva naturalmente un forte incitamento che ormai nella mia solitudine è tramontato allora invece ero così forte da fare qualcosa di inaudito di contrario a tutti i nostri principi che certamente tutti i testimoni oculari di allora rammentano come qualcosa di inquietante nella scienza che di norma tende a specializzazioni illimitate trovai una strana semplificazione essa insegna che la terra produce in massima il nostro alimento e dopo aver fatto questa premessa indica i metodi con i quali si possono ottenere i diversi cibi nel modo migliore e in massima abbondanza ora è certamente giusto che la terra produce il nutrimento non vi può essere dubbio ma la cosa non è così semplice come la si presenta comunemente escludendo ogni ulteriore indagine si prendano per esempio i fatti più primitivi che vediamo ripetersi ogni giorno se fossimo del tutto inerti come io comincio a essere se dopo aver lavorato superficialmente la terra ci acciambellassimo in attesa di ciò che verrà certo premesso che si arrivi a un risultato troveremmo il nutrimento sulla terra ma questa non è la regola che abbia conservato soltanto un tantino di libertà di giudizio di fronte alla scienza non ce ne sono molti perché i cerchi che la scienza va tracciando si allargano sempre di più anche quando non miri a osservazioni particolari vedrà facilmente che la parte maggiore del nutrimento che sta sulla terra scende dall'alto tanto è vero che secondo la nostra agilità e voracità intercettiamo persino la maggior parte prima che tocchi la terra con ciò non dico ancora nulla contro la scienza poiché la terra produce ben inteso anche questo nutrimento che ne tragga l'uno dalle proprie viscere o faccia scendere l'altro dall'alto non rappresenta forse alcuna differenza essenziale e può darsi che la scienza la quale ha trovato come in entrambi i casi sia necessario lavorare il terreno non debba neanche occuparsi di tali distinzioni si dice infatti sai la bocca piena per questa volta hai risolto tutti i problemi se non che a me sembra che la scienza si occupi velatamente di queste cose almeno in parte dato che conosce due metodi principali di procurarsi il nutrimento cioè la vera e propria lavorazione del suolo e il lavoro di completamento e affinamento sotto forma di versetti di danza e canto io ci trovo una suddivisione se non completa certo abbastanza chiara e rispondente alla mia bipartizione secondo me la coltivazione del terreno serve a ottenere tutte e due le specie di nutrimento ed è sempre indispensabile mentre versetti i danza e i canti riguardano meno il nutrimento del suolo in senso stretto e servono invece principalmente a far scendere l'alimento dall'alto questo mio concetto è confortato dalla tradizione qui si direbbe che il popolo rettifichi la scienza senza saperlo e senza che la scienza oggi opporsi se come la scienza pretende quelle cerimonie dovessero servire soltanto al terreno per dargli poniamo la forza di prendere il nutrimento dall'alto dovrebbero logicamente svolgersi tutte al suolo e al suolo bisognerebbe che ogni cosa fosse suggerita saltata danzata che io sappia la scienza non chiede altro ed ecco il punto strano il popolo con tutte le sue cerimonie si volge verso l'alto questo non è un'offesa alla scienza essa non lo vieta lascia libertà all'agricoltore nei suoi insegnamenti pensa soltanto al terreno ed è soddisfatta quando l'agricoltore attua i suoi insegnamenti relativi al terreno ma secondo me il suo ragionamento dovrebbe a rigore avere esigenze maggiori e io che non fui mai profondamente iniziato alla scienza non posso neanche figurarmi come gli scienziati possano tollerare che il nostro popolo tanto soggetto alle passioni reciti le formule magiche verso l'alto lancinaria ai nostri antichi e tristi canti popolari ed eseguisca salti di danza come se dimenticando il suolo volesse sollevarsi in alto per sempre io ho cominciato col mettere in rilievo queste contraddizioni mi sono limitato al terreno ogni qual volta secondo le dottrine della scienza si avvicinava l'epoca del raccolto raspavo il suolo danzando torcevo la testa pur di essere possibilmente vicino al terreno in seguito scavai una buca per il muso e cantavo declamavo in modo che soltanto il terreno mi udisse e nessun altro né accanto né sopra di me i risultati delle mie indagini furono scarsi talvolta non ricevevo da mangiare e già stavo per gioire della mia scoperta ma poi il cibo arrivava di nuovo come se da principio il mio strano comportamento avesse prodotto una certa confusione e ora invece si manifestasse il vantaggio che ne deriva e si rinunciasse volentieri alle mie gride e ai salti spesso anzi il cibo arrivava più abbondante di prima ma poi veniva magari a mancare del tutto con un'assiduità mai vista fino allora in cani giovani tenevo precisi registri di tutti i miei esperimenti credevo talvolta di aver già trovato una traccia che potesse portarmi avanti ma poi questa si smarriva nel vago indistinto la mia strada era anche incontestabilmente attraversata dalla mia insufficiente preparazione scientifica chi mi garantiva che per esempio il mancato arrivo del cibo fosse dovuto non già al mio esperimento ma alla non scientifica lavorazione del suolo nel qual caso tutte le mie deduzioni cadevano in determinate condizioni avrei potuto fare un esperimento quasi preciso quando cioè fosse riuscito senza lavorare affatto la terra a ottenere la discesa del cibo con la sola cerimonia verso l'alto e poi la mancanza del cibo esclusivamente con la cerimonia al suolo feci anche tentativi di questo genere ma senza crederci fermamente e senza perfette condizioni sperimentali poiché secondo la mia incrollabile convinzione almeno una certa lavorazione del suolo è sempre necessaria e quando anche avessero ragione gli eretici che non ci credono non lo si potrebbe mai dimostrare perché l'annaffiatura del suolo avviene in seguito a uno stimolo e in certi limiti non la si può neanche evitare un altro esperimento magari un po' eccentrico ebbe migliore riuscita e fece qualche scalpore in aggiunta alla consueta cattura del nutrimento dall'aria deliberai di far bensì scendere il nutrimento ma senza ferrarlo a tal fine quando il nutrimento arrivava facevo sempre un piccolo salto in aria calcolato però in modo che non fosse sufficiente allora il cibo cadeva per lo più a terra con un tonfo indifferente e io mi ci buttavo furibondo col furore non solo della fame ma anche della delusione in singoli casi invece avveniva qualcos'altro qualche cosa di veramente meraviglioso il cibo non cadeva ma mi seguiva nell'aria il nutrimento inseguiva l'affamato non a lungo ma soltanto un breve tratto poi cadeva o spariva del tutto oppure che era il caso più frequente la mia voracità troncava l'esperimento prima del tempo e io divoravo ogni cosa comunque fosse allora ero felice intorno a me si udiva bisbigliare tutti erano irrequieti e stavano attenti i miei conoscenti erano più accessibili alle mie domande nei loro occhi vedevo un baleno che in qualche modo cercava soccorso forse magari il riflesso del mio sguardo non desideravo altro ero soddisfatto finché poi venne a sapere e gli altri lo seppero insieme con me che questo esperimento era stato descritto da un pezzo nel campo scientifico era riuscito molto meglio che a me non lo si era potuto fare è vero per molto tempo a causa della difficoltà di dominarsi che esso esige ma per la sua pretesa inutilità scientifica non è neanche necessario ripeterlo esso prova soltanto ciò che già si sapeva che il suolo prende il cibo dall'alto non soltanto perpendicolarmente ma anche in senso obliquo e persino a spirale rimaci dunque perplesso ma non scoraggiato ero ancora troppo giovane anzi ciò mi spinse a un'impresa che fu forse la più grande della mia vita non credetti nella valutazione scientifica del mio esperimento ma qui non giova a credere giova a soltanto dimostrare e a questa dimostrazione volevo accingermi e mettere pienamente in luce portare al centro degli studi questo esperimento un po' centrico volevo provare che quando mi ritraevo dal nutrimento non era il suolo a tirarlo a sé obliquamente ma ero io a tirarmelo dietro è vero che non potei sviluppare questo esperimento a lungo andare non si resiste a vedere il cibo davanti a sé e fare nello stesso tempo esperimenti scientifici ma io ero disposto a fare un'altra cosa ero disposto al digiuno completo fin dove potessi resistere evitando ben inteso la vista del cibo e ogni tentazione se mi traevo indietro in questo modo e rimanevo curicato ad occhi chiusi giorno e notte se non mi curavo di raccattare né di afferrare il nutrimento siccome non osavo affermare ma tacitamente speravo senza alcuna altra misura soltanto in seguito all'inevitabile e irrazionale annaffiatura del suolo e alla recitazione dei versetti e dei canti volevo evitare la danza per non indebolirmi il nutrimento fosse sceso spontaneamente dall'alto e senza curarsi del terreno avesse bussato alla mia dentatura per poter entrare se ciò fosse accaduto la scienza non era certo confutata poiché possiede abbastanza elasticità per le eccezioni e i casi singoli ma che cosa avrebbe detto il popolo che fortunatamente non ha tanta elasticità infatti questo non sarebbe stato un caso eccezionale sul tipo di quelli che la storia tramanda quando ad esempio uno rifiuta di preparare cercare ingerire il nutrimento in seguito a un malessere fisico o alla malinconia e allora tutti i cani si uniscono negli scongiuri e così ottengono che il nutrimento lasci la via comune e arrivi diritto alle fauci del malato io invece ero in perfetta salute ed energia avevo un appetito così formidabile che per intere giornate mi impediva di pensare ad altro e mi si creda o no mi adattai al digiuno volontario ero in grado di provvedere alla discesa del nutrimento e così facevo senza alcun bisogno di essere aiutato dai cani rifutando anzi quell'aiuto nel modo più perentorio cercai un posto adatto in un remoto cespuglio dove non avrei udito né parlare di cibi né biascicare o schiacciare ossi mi rimpinzai ancora una volta a sazietà e mi coricai volevo se possibile passare tutto il tempo ad occhi chiusi finché non arrivava il cibo mi sarei trovato ininterrottamente nella notte durasse anche giorni o settimane certo dovevo dormire poco o meglio non dormire affatto e ciò rendeva la cosa molto più difficile poiché non solo dovevo scondurare che il cibo scendesse ma dovevo anche stare attento di non dormire al momento del suo arrivo d'altro canto il sonno mi era molto gradito poiché dormendo si può sopportare la fame più a lungo che stando svegli per questa ragione decisi di suddividere cautamente il tempo e di dormire molto ma sempre a brevissimi tratti lo potei fare appoggiando sempre la testa su un ramo fragile che dopo un po' si spaccava e mi svegliava stetti dunque coricato dormendo e vegliando sognando o cantando tra me il primo periodo passò senza alcun avvenimento può darsi che nel luogo donde viene il nutrimento non si fosse notato che mi ribellavo al consueto andamento delle cose sicché nulla si mosse e il mio sforzo mi disturbava un poco il timore che i cani avvertissero la mia mancanza mi scoprissero troppo presto e prendessero misure contro di me in secondo luogo temevo che in seguito alla sola annaffiatura il terreno pur essendo secondo la scienza un terreno sterile desse il cosiddetto nutrimento fortuito e l'odore di questo mi seducesse per il momento però ciò non avvenne e io potei continuare il digiuno prescindendo da questi timori ero tranquillo come non mi era mai capitato men che a dire il vero lavorassi alla distruzione della scienza mi sentivo a mio agio e provavo quasi la proverbiale tranquillità dello scienziato al lavoro nelle mie fantastiche lie ottenevo il perdono della scienza in essa trovavo anche il posto per le mie indagini sentivo nelle orecchie il conforto che per quanto le mie indagini fossero coronate da successo e specialmente in questo caso non ero affatto perduto per la vita canina che la scienza mi era amica che essa stessa avrebbe provveduto a interpretare le mie conquiste e questa promessa era come fosse già mantenuta mentre fino allora mi ero sentito intimamente ripudiato e avevo assalito le mura del mio popolo come un selvaggio ora sarei stato accolto con grandi onori l'agoniato calore di corpi canini ammassati mi avrebbe circondato e sollevato per forza avrei ondeggiato sulle spalle del mio popolo strani effetti della prima fame i miei meriti mi parevano così grandi che dalla commozione e dalla pietà di me stesso là nel cespuglio silenzioso mi mise a piangere cosa non del tutto comprensibile perché se aspettavo la meritata ricompensa perché mai piangevo probabilmente perché mi sentivo bene il mio pianto non mi è mai piaciuto sempre in momenti di benessere per quanto rari mi sono messo a piangere certo poi mi passava presto le belle visioni dileguavano e a poco a poco con l'accentuarsi della fame e dopo non molto licenziate rapidamente tutte le fantasie e ogni commozione mi trovavo solo con la fame che mi bruciava nelle viscere questa è la fame andavo dicendomi infinite volte come per convincermi che la fame ed io eravamo ancora due cose diverse e che la potevo scrollare come un amante molesta mentre in realtà eravamo dolorosissimamente una cosa sola e quando dicevo a me stesso questa è la fame chi parlava era veramente la fame da quale si faceva beffe di me brutto brutto periodo quando ci penso mi vengono i brividi non già soltanto per la sofferenza che sostegni allora ma soprattutto perché quella volta non ne venni a capo perché dovrò ancora una volta soggettarmi a quel dolore se voglio raggiungere qualcosa poiché oggi ancora considero la fame il mezzo estremo e più efficace della mia indagine la via passa attraverso la fame le vette si possono toccare seppur sono raggiungibili solo attraverso la massima fatica e questa è tra noi la fame volontaria quando dunque rammento quei tempi e ci frugo con volutà penso anche ai tempi che incombono sembra quasi che debba passare una vita intera prima di riaversi da un siffatto esperimento tutti gli anni della mia virilità mi separano da quel digiuno e ancora non mi sono riavuto prossimamente quando comincerò a digiunare sarò forse più risoluto di prima in seguito alla mia esperienza e alla maggiore intuizione della necessità di fare l'esperimento ma le mie energie sono diminuite fin da allora o almeno mi stancherò alla sola attesa dei ben noti orrori l'appetito più languido non mi sarà d'aiuto svaluterà di poco l'esperimento e probabilmente mi costringerà a digiunare più a lungo di quanto non sia stato necessario l'altra volta con queste e altre premesse credo di aver ottenuto chiarezza in questo lungo intervallo non sono infatti mancati gli esperimenti preliminari già molte volte ho per così dire addentato la fame ma non ero abbastanza forte per la prova estrema e naturalmente l'ingenua aggressività della gioventù è tramontata per sempre scomparve già allora in mezzo al digiuno varie considerazioni mi tormentavano minacciosi mi apparivano i nostri progenitori secondo me anche se non oso dirlo in pubblico essi sono colpevoli di tutto sono stati loro a provocare la vita dei cani sicché alle loro minacce potevo facilmente rispondere con controminacce ma mi inchino al loro sapere che proveniva da fonti non più note e perciò pur desideroso di combattere contro di loro non trasgredirei mai le loro leggi ma cerco soltanto di evadere dalle lacune della legge per le quali ho un fiuto particolare a proposito del digiuno mi appello alla famosa conversazione nella quale uno dei nostri sapienti espresse l'intenzione di proibire il digiuno mentre un altro lo sconsigliò mediante questa domanda e chi mai digiunerà il primo si lasciò persuadere e si rimangiò al divieto ora però si presenta di nuovo il quesito il digiuno a rigore non è forse vietato la maggior parte dei commentatori lo nega considera libero il digiuno sta col secondo sapiente e non teme quindi di cattive conseguenze neanche da un commento errato di ciò mi sono sincerato prima di cominciare il digiuno adesso però mentre mi torcevo dalla fame e persino un po' sconvolto nella mente cercavo soccorso nelle mie zampe posteriori e disperatamente le leccavo le masticavo le succhiavo fin sull'ano la universale interpretazione di quel colloquio mi pare del tutto errata maledissi la scienza esegetica maledissi me stesso che da essa mi ero lasciato traviare tanto è vero che il colloquio un cucciolo l'avrebbe capito conteneva più di un solo divieto del digiuno il primo sapiente voleva vietarlo e ciò che vuole un sapiente è già attuato il digiuno dunque era vietato il secondo sapiente non solo dava il suo consenso ma considerava persino impossibile il digiuno caricava dunque sopra il primo divieto un secondo il divieto della stessa natura canina il primo l'aveva riconosciuto e ritirò l'espresso divieto comandò cioè ai cani dopo aver risposto a tutto ciò di usare l'intelligenza e di proibire il digiuno a se stessi tra divieti dunque invece del solito uno e io li avevo trasgrediti ora avrei potuto obbedire almeno un ritardo e smettere di digiunare ma nel dolore c'era anche un invito a continuare il digiuno io lo seguì con avidità come si segue un cane sconosciuto non potevo smettere forse ero anche troppo debole per alzarmi e rifugiarmi in regioni abitate mi avvolto l'avo sullo strame di foglie secche non potevo più dormire udivo rumori dappertutto il mondo che aveva dormito durante la mia vita precedente sembrava svegliato dalla mia fame avevo l'impressione di non poter mai più mangiare perché in tal modo avrei dovuto ridurre di nuovo al silenzio il mondo liberamente rumoroso e non sarei stato capace di farlo ma il rumore più forte lo sentivo nel ventre rifusavo spesso l'orecchio e devo aver avuto il terrore negli occhi perché non riuscivo quasi a credere in ciò che sentivo quando poi si passarono i limiti parve che l'ebbrezza si comunicasse anche alla mia natura la quale si mise a fare assurdi tentativi di salvataggio cominciai a fiutare cibi cibi squisiti che da un pezzo non avevo mangiati godimenti della mia infanzia fiutavo infatti l'odore delle mammelle di mia madre e dimenticai la mia decisione di opporre resistenza agli odori o dirò meglio non la dimenticai con la decisione come fosse una decisione opportuna mi trascinavo da una parte all'altra soltanto per qualche passo e fiutavo come se cercassi il cibo soltanto per guardarmene e poiché non trovavo niente non rimanevo deluso i cibi c'erano erano soltanto un po' lontani e prima di raggiungerli le gambe mi ci piegavano nello stesso tempo però sapevo che non c'era nulla e che facevo quei piccoli movimenti soltanto per la paura di crollare alla fine in un posto che non avrai più abbandonato le ultime speranze dileguarono e così le ultime lusinghe lì sarei perito miseramente che cosa contavano le mie indagini puerili tentativi di un tempo puerilmente felice lì e ora si faceva sul serio lì lo studio avrebbe potuto dare prova del suo valore ma dov'era lì c'era soltanto un povero cane che acchiappava il vuoto che continuava ad annaffiare con fretta convulsa il terreno senza rendersene conto ma nella memoria non riusciva più a ricavare da tutta quella ferraggine di formule magiche nemmeno una briciola nemmeno il versetto col quale i neonati si accucciano sotto la madre avevo avevo l'impressione che non soltanto una breve corsa mi separasse dai fratelli ma fossi infinitamente lontano da tutti e stessi morendo non già per fame ma in seguito al mio abbandono era chiaro che nessuno si curava di me nessuno sotto la terra nessuno sopra nessuno nell'alto io perivo per la loro indifferenza la quale diceva ecco che muore e così sarebbe avvenuto non ero forse d'accordo non dicevo la stessa cosa non ero stato io a volere quell'abbandono certo cani ma non per finire qui in questo mondo bensì per arrivare al di là alla verità da questo mondo di menzogna dove non si trova nessuno dal quale si possa apprendere la verità neanche da me autoctono cittadino della menzogna forse la verità non era troppo lontana né io quindi ero così abbandonato come credevo abbandonato dagli altri ma soltanto da me che fallivo e morivo non si muore però così in fretta come può credere un cane nervoso caddi soltanto in deliquio e quando mi ridestai alzai gli occhi davanti a me non c'era un cane forestiero non sentivo fame ero molto in forza secondo me le giunture molleggiavano anche se non facevo alcun tentativo di darne prova alzandomi in piedi in fondo non vedevo più del solito davanti a me c'era un cane bello non troppo fuori del comune questo vedevo nient'altro eppure ero convinto di vedere in quel cane più del solito sotto di me c'era una pozza di sangue di per lì pensai che fosse cibo ma tosto disse alzando sarà affermio lentamente sei strano non ti piaccio forse mi piacerai se te ne andrai e mi lascerai in pace risposi ma non ero più sicuro di me come volevo fargli credere coi sensi affinati dalla fame vedevo e udivo in lui qualche cosa era soltanto un inizio che aumentava si avvicinava e già sapevo che quel cane aveva sì il potere di cacciarmi via anche se non sapevo ancora figurarmi come mi sarei mai potuto sollevare e con sempre più grande desiderio lo guardavo dopo che alla mia rude risposta si era limitato a scuotere la testa chi sei domandai sono un cacciatore rispose e perché non vuoi lasciarmi qui mi disturbi non posso cacciare se stai qui prova dissi può darsi che tu riesca ancora a cazzare no replicò lui mi dispiace ma devi andar via rinuncia per oggi a cacciare lo pregai no rispose devo cacciare io devo andar via tu devi cacciare sempre dov'eri riesci a capire perché dobbiamo no rispose e non c'è niente da capire sono cose ovvie e naturali mi pare di no osservai ti dispiace infatti di dovermi scacciare eppure lo fai così è disse così è ripete indispettito non è una risposta quale rinuncia ti sarebbe più facile rinunciare alla caccia o rinunciare a mandarmi via rinunciare alla caccia rispose senza agitazione vedi qui c'è una contraddizione quale contraddizione domandò caro cagnolino non capisci davvero che è mio dovere non capisci proprio una cosa ovvia non dissi altro perché mi accorsi e mi sentii pervadere da una vita nuova come quella che viene dal terrore mi accorsi da impercettibili particolari che forse nessun altro avrebbe potuto notare come il cane si preparasse a cantare dal profondo del cuore tu canterai gli dissi sì rispose serio canterò presto ma non ancora stai già incominciando no ribatté non ancora ma preparati lo sento già anche se tu neghi dissi tremando e gli tacque ed io credetti di avvertire una cosa che nessun cane ha mai appreso prima di me almeno nella tradizione non se ne trova il minimo cenno e tosto con infinita angoscia e vergogna tu fai il volto nella pozza di sangue che era davanti a me imperva infatti di avvertire che il cane cantava già senza saperlo anzi anzi più ancora la melodia staccata da lui si librava nell'aria per legge propria e passava sopra a lui come se non gli appartenesse ma mirasse soltanto a me oggi naturalmente nego tutte le esperienze di questo genere e le attribuisco a quel mio stato di sovraeccitazione ma se anche fu un errore non gli manca una certa grandiosità è l'unica realtà magari soltanto apparente che abbia ricavato dal periodo della fame e portato in questo mondo ed essa almeno dimostra fino a quel punto possiamo giungere essendo completamente fuori di noi io infatti ero davvero fuori di me in circostanze comuni sarei stato gravemente ammalato incapace di muovermi ma quella melodia che poco dopo il cane pareva accogliesse per sua non potevo resistere diventava sempre più forte il crescendo era forse senza limiti e già ora mi spaccava quasi i timpani il peggio era che sembrava esistesse soltanto per me quella voce sublime davanti alla cui grandiosità la foresta mutoliva chi ero io per avere l'ardire di rimanere ancora lì e di accomodarmi nella mia lordura e nel mio sangue mi alzai sulle gambe malferme e mi guardai un essere simile non vorrà mica mettersi a correre pensai ma già volavo spinto dalla melodia con balzi stupendi non dissi nulla ai miei amici appena arrivato avrai detto probabilmente tutto ma in quel momento ero troppo debole e più tardi mi pareva che non fossero cose comunicabili accenni che non riuscivo a reprimere si perdevano nei colloqui senza lasciare traccia fisicamente mi rimisi in sesto entro poche ore spiritualmente ne porto ancora le conseguenze allargai però le mie indagini alla musica dei cani certo nemmeno qui la scienza era stata con le mani in mano la scienza della musica se sono bene informato è forse ancora più vasta di quella del nutrimento e in ogni caso poggia su basi più solide e si spiega perché in questo campo si può lavorare con meno passione che in quello e qui si tratta piuttosto di osservazioni e sistemazioni là invece di deduzioni pratiche mi si aggiunge che il rispetto per la musicologia è più profondo che quello per la bromatologia ma la prima non pote mai diffondersi nel popolo come la seconda anch'io mi sentivo più estraneo alla scienza della musica che a qualunque altra prima di aver udito la voce nella foresta vero è che già l'avventura coi cani musicanti me l'aveva additata ma a quel tempo ero ancora troppo giovane e poi non è facile accostarsi a questa scienza da si considera particolarmente difficile e preclusa alla folla aristocratica in quei cani ciò che più dava nell'occhio era stata la musica ma più importante di questa mi era parsa la loro taciturna natura canina in genere non trovai in nessun luogo nulla di simile a quella musica spaventevole potevo anche trascurarla mentre la loro natura mi si presentò dopo di allora in tutti i cani per penetrare nella natura canina mi parve che le indagini intorno al nutrimento fossero le più adatte quelle che portavano alla meta senza ambagi può darsi che in questo punto abbia avuto torto certo è che già allora una zona di confine tra le due scienze destò i miei sospetti la dottrina cioè del canto che fa scendere il nutrimento anche qui mi disturba il fatto che non mi sono mai addentrato seriamente nella musicologia e in questo campo non posso neanche lontanamente annoverarmi tra quei semicolti che la scienza disprezza sempre in modo particolare questa cosa la devo tenere sempre presente davanti a uno scienziato non saprei purtroppo ne ho le prove sostenere neanche il più facile esame scientifico la ragione di ciò prescindendo dalle menzionate ragioni di vita sta innanzitutto nella mia inattitudine scientifica nella esigua profondità del pensiero nella cattiva memoria e soprattutto nell'incapacità di tenere sempre davanti agli occhi la meta scientifica la riconosco apertamente persino con una certa gioia infatti la più profonda cagione della mia inattitudine scientifica è secondo me un istinto e devo dire un istinto non cattivo se volessi fare il millantatore potrei dire che proprio quell'istinto ha distratto le mie capacità scientifiche poiché sarebbe un fenomeno perlomeno curioso che io pur essendo sopportabilmente capace di intendere le cose comuni della vita quotidiana che non sono certo le più semplici e pur comprendendo molto bene se non la scienza almeno gli scienziati come si può controllare dalle mie risultanze dovessi essere stato incapace per natura di sollevare la zampa sul primo gradino della scienza è stato l'istinto che forse appunto per amore della scienza ma di una scienza diversa da quella che si pratica oggi di una scienza veramente ultima mi fece stimare la libertà più di qualunque altra cosa la libertà certo la libertà oggi possibile è una pianta stentata ma comunque sia è libertà è sempre un possesso